è una gioia oggi essere qui presso la scuola di restauro di botticino una grande occasione in cui dispiegheremo una delle più grandi bandiere d'europa esistenti in italia con l'aiuto degli studenti di questa scuola e i loro dirigenti in un clima di festa per ricordare l'importanza di un'europa di pace unita è un'europa che possa dare tante occasioni a questo mondo a questi studenti e alle prossime generazioni oggi ci tenevamo a questa giornata per sottolineare il nostro impegno rispetto ai valori che accomunano la cittadinanza europea coinvolgere i ragazzi anche con la grande bandiera dell'europa e riflettere sul ruolo che le istituzioni hanno e per ognuno di noi è un modo vivo per sentirsi appunto cittadini oggi dobbiamo riscoprire l'importanza dell'europa l'europa nasce per dare decenni di pace alla nostro continente e così ci è riuscito un patrimonio quindi da custodire e da mantenere per il futuro l'europa dei popoli l'europa della pace l'europa del benessere economico